Buona giornata, un saluto a tutti gli amici del nostro canale YouTube dedicato al grande calcio, a Milan-Inter-Juventus, Napoli, Roma, Lazio, PSG, a tutto quello che accade e dunque siamo qui noi pronti a raccontare, ad approfondire. Se siete appassionati di calcio vi ricordo di lasciare un bel like qui sotto e di iscrivervi dove c'è scritto AL, mi raccomando attivate la campanella e se vi va fate iscrivervi anche i vostri amici di qualsiasi squadra. Si è chiuso un mercato con dei botti, botti soprattutto nell'ultima settimana, su tutti ovviamente Vlaovic, Juve che è regina del mercato avendo preso anche Zaccaria, avendo fatto partire dei giocatori che erano in esubero, soprattutto Ramsey, lo stesso Kuluseski e Bentancur anche se aveva fatto ad esempio contro Milan un'ottima partita. L'Inter non aveva necessità di intervenire ma ha fatto sicuramente molto bene, Caicedo, pallino di Inzaki ma soprattutto Gosens che per me è un giocatore forte, forte, forte. Tra l'altro c'era una perplessità sulle condizioni fisiche però con la nostra redazione QSVS abbiamo scoperto che invece gli esami hanno mostrato come il recupero dopo lo strappo sia stato esemplare, non ci sia più la cosiddetta cicatrice quindi Gosens poi è abile, arruolabile, davvero un giocatore secondo me più forte di Persic, più completo, segna quasi come una seconda punta perché spesso va in doppia cifra, nazionale anche tedesco, davvero operazione interessante. La Roma ha fatto un paio di acquisti su tutti secondo me Sergio Oliveira che è forte, ha dimostrato subito grande personalità. Dall'altra parte anche la Lazio ha fatto qualcosa nella giornata di ieri mentre il Napoli non ha di fatto sfruttato questa campagna acquisti così come il Milan che ha preso soltanto la Zetici numero 9 ma non ha preso il difensore. Ora ci proiettiamo ovviamente al futuro, alla prossima stagione perché le squadre avranno da affrontare rinnovi che da oggi possono firmare gratis per altre squadre. Qualsiasi giocatore in scadenza da oggi, primo febbraio, può firmare e può diventare tutto di fatto ufficiale. Dall'altra parte si lavora anche per la prossima stagione con le squadre che si devono muovere in anticipo per evitare la concorrenza. In questo senso, avete visto in copertina Marotta, devo dire che l'Inter sta lavorando molto bene con operazioni anche per il futuro, anche per la prossima stagione. In reparti dove probabilmente avranno necessità di cambiare un po' pelle. In questo caso non parliamo di frattesi con l'Inter che è avanti ma non ha chiuso, non parliamo di possibili colpi a parametro zero ma parliamo di un attaccante che l'Inter ha in pratica bloccato per la prossima stagione. Stiamo parlando di Gianluca Scamacca che per quanto mi riguarda è un attaccante molto forte, secondo me ha margini di miglioramento forti, importanti. Lo dicevo l'altro giorno, non credo di dire una bestemmia. Come concetto di giocatore, come concetto di numero 9, dopo Dusan Vlaovic che oggi in Italia è il top, quello che più gli si avvicina, anche se al momento c'è una differenza importante, è Gianluca Scamacca. Che ha appena fatto il primo gennaio a 23 anni, è un classe 99 italiano e probabilmente giocherà lui nello spareggi per arrivare, per passare e accedere ai prossimi mondiali. In questo momento c'è un balottaggio con Immobile, però siccome Scamacca può essere l'uomo giusto al posto giusto. 1,95 ha un contratto in scadenza con il Sassuolo nel 2025. Devo dire che lui sta facendo un percorso di crescita importante. Intanto mi si è impallato il PC, io vi volevo mostrare qualche numero sui gol di questa stagione. E allora provo a spegnere e riavviare il bello della diretta, diciamo così. Lui è stato un po' chiacchierato per vicende familiari riguardante al papà, ricorderete era andato con la spranga a Trigoria. Riguardante anche il nonno, anche lui recentemente è finito nelle cronache per fatti piacevoli, non perché ha fatto beneficenza. Però lui mi sembra un ragazzo che al di là magari dell'aspetto, tutto tatuato, non sta facendo nulla di male, anzi. Si sta concentrando e mi sembra che a livello calcistico stia maturando. L'idea dell'Inter ovviamente è quella di ringiovanire un reparto, soprattutto di avere un'alternativa valida a Edin Dzeko. Che sta facendo bene in termini di gol, ma ovviamente anche lui inizia a essere un po' datato, un po' chilometrato. E quindi l'anno prossimo nel gioco delle coppie l'Inter dovrebbe avere Scamacca e Dzeko. Con Scamacca che probabilmente diventerà il titolare. Magari non subito, ma a regime è destinato a diventare appunto titolare. Lui, vi dicevo, sta facendo un percorso di crescita importante al Genoa l'anno scorso. Forse un mezzo passo falso all'inizio non giocava tantissimo. Quest'anno si sta imponendo, tant'è che appunto entra anche nel giro azzurro, quasi per necessità. 22 partite e 9 gol con il Sassuolo. 22 partite neanche intera, perché lui ha fatto 1121 minuti. Un gol ogni 125 minuti significa un gol ogni partite qualcosa, media molto importante. Io lo vedrei benissimo in qualsiasi squadra, anche al Milan, che avrebbe bisogno di un giocatore forte fisicamente. Ecco, chi lo paragona a Piontek, secondo me sbaglia a quel giocatore che cambia maglia e non si impone. C'è sempre il fattore ambientamento con una maglia pesante, magari un giovane va aspettato. Abbiamo visto recentemente l'esempio di Tonali al Milan, l'anno scorso non bene, quest'anno benissimo. Però, ecco, lui ha caratteristiche che non si possono discutere, che non si possono perdere. Magari Piontek aveva il fiuto del gol. Quello può essere un po' estemporaneo, può essere provvisorio. La forza fisica, il fisico 1,95, la capacità di incidere sulle palle alte, la capacità di avere anche qualità nei piedi, non spariscono. Quindi, da questo punto di vista, se l'Inter prende Scamacca, come credo, secondo me fa un grande colpo. Gli ho visto fare gol in ogni modo. Al Milan, ad esempio, ha calciato anche con un tiro secco nel 7 e non è casuale. Lì l'ha messa dove voleva, significa che hai anche una balistica importante che ti può far arrivare. L'operazione è facilitata sicuramente dagli ottimi rapporti che ci sono tra Inter e Sassuolo, nella fattispecie tra Giovanni Carnevali e Beppe Marotta. I due sono molto amici. Di fatto il mestiere a Carnevali l'ho insegnato Marotta. E questo sicuramente ci fa capire anche come sia importante nel calcio, nel calcio mercato, avere ottimi rapporti, avere degli amici sparsi qua e là. Perché nel momento dei bisogno è vero che i soldi fanno una differenza, ma c'è una corsia preferenziale che in questo momento l'Inter ha, proprio perché si è mossi in anticipo, proprio perché Carnevali è molto amico di Marotta. Potrebbe interessare al Milan. Milan anche però non ha mosso passi ufficiali. La Juventus ha posto con Vlaovic, la Roma con Ebram, il Napoli con Ossimen, la Lazio ha immobile e quindi l'Inter mi sembra di capire che in Italia abbia tutto per arrivare a bloccare questo giocatore. Di fatto lo ha quasi bloccato. Si è parlato di Dortmund per sostituire Holland, ma non credo che Scamacca al momento abbia ancora quella PIL internazionale, anche perché appunto con la nazionale in pratica non si è visto mai, in pratica e non ha fatto competizioni europee e quindi è un giocatore da Italia e l'Inter, che di fatto lo ha quasi chiuso, secondo me fa un'operazione top per il futuro e può essere un top anche per tanti anni. Gianluca Scamacca. Bel acquisto. Se l'Inter lo blocca come credo, fa davvero un'operazione molto molto interessante. Ragazzi, che cosa ne pensate? Scrivetelo qui sotto, tutti tifosi dell'Inter, del Milan, dell'Inter, del Juventus, eccetera eccetera. Scrivete il vostro commento, lasciate un like se non pensate come me o se apprezzate il canale. Iscrivetevi in numerosissimi dove c'è scritto L, Piggiate, cliccate e se vi fate iscrivetevi ai vostri amici parleremo di tutto su questo canale. Inter, Mina, Juve, Napoli, Roma, Calcio Mercato, Calcio Estero. Un calcio che sprizza, scusate, un canale che sprizza calcio da ogni pixel. Ciao!